Musica E di tutte le persone che stanno lottando, il 18 a Roma faremo un insieme per il dolore E con molte difficoltà frizza della comunità africana Valorosi a cui vorrei dare un applauso, che ogni giorno hanno davanti Doveroso, noi dobbiamo di genere davvero rimettere in campo Per condividere i contenuti Grazie